Musica Benvenuti in secondo appuntamento con Degustazioni Crociera, il vino sulle onde. Siamo a Marsiglia e nell'occasione oggi abbiamo un parterre di bottiglie fantastiche da presentare ai nostri amici a casa ma soprattutto ai nostri giornalisti. Passaggeremo oggi grandi aziende come già è successo ieri, abbiamo anche Franca Bertani con il produttore, naturalmente Poggio delle Grazie dell'azienda e anche altre aziende che saranno presentate come ieri da Liliana Savioli per le favole. E abbiamo un ospite importante, un giornalista che ci presenta un aceto importantissimo, l'aceto Giusti, Luca Bonacini. E poi le mie aziende, quindi vi introdurrò con Angelo Bertoli, il suo metodo classico Rosè, l'azienda Ricchi di Monzambano con un cerdonè strepitoso. E termineremo con Tenute Cavalier Pepe, il greco di tuffo Gran Care.